politica, Gianni Girotto, e quanto prevale la fase politica? C'è quanto poi è stata una commissione anche su quello che era il rapporto tra politica e sistema bancario, quello che è il rapporto all'interno di personaggi forti del cosiddetto Giglio Magico, qualcosa lì non ha funzionato, quali sono le ombre che secondo lei sono rimaste? Sì, la prima cosa che non ha funzionato è la data, perché abbiamo aspettato, perché la maggioranza ha aspettato gli ultimi 4 mesi della legislatura per predisporre questa commissione di inchiesta, che noi abbiamo chiesto il mese dopo che è iniziata la legislatura, nel 2013, l'abbiamo chiesta nel 2013, appena è iniziata la legislatura, abbiamo continuato a chiederle, ci sono più proposte di legge in questo senso e la maggioranza ha ritenuto bene a ogni calendarizzazione delle attività di non predisporla, arrivando solo 4 mesi prima della fine della legislatura e secondo noi questo è un chiaro segno di una volontà da parte loro di sfruttare la commissione di inchiesta come leva elettorale, per dire ai cittadini ecco, guardate abbiamo agito, ma perché non abbiamo agito, perché la maggioranza non ha agito già nel 2013, dal momento che Banca d'Italia, Consob, tutti i soggetti sono venuti a dirci che le problematiche, i vizi gravi di forma e di merito che stavano utilizzando le banche, che poi sarebbero arrivate al dissesto, erano già note da anni, quindi questa è la prima questione, perché è stato aspettato così tanto tempo. Lei dice che è stato usato come leva elettorale, ma poi insomma a Girotto siamo proprio così convinti, perché non sembra che il PD almeno ha quanto dicono i sondaggi, che vanno ovviamente sempre presi assolutamente con le pinze, ne siamo ben testimoni, nelle ultime vicende elettorali ne stia beneficiando, quindi insomma leva elettorale poi fino a un certo punto, Girotto forse è stato un numero anche per il PD. La mia opinione e la nostra opinione stanno cercando di salvare i salvabili, non era più procrastinabile dopo i fallimenti delle due banche venete, il salvataggio delle quattro centrali, il salvataggio tra virgolette, ma guardi restiamo ai fatti, non sto dicendo io che andava agito prima, lo hanno detto innanzitutto i procuratori, i procuratori che abbiamo udito numerosi, Milano, Roma, Arezzo eccetera, l'hanno detto tutti, non abbiamo strumenti sufficienti per contrastare le irregolarità bancarie, non abbiamo le fattispecie di reato adatte, abbiamo sanzioni ridicole, sono parole non mie, ma dei procuratori, quindi è chiaro che la politica doveva agire molto prima, la politica ha responsabilità dagli ultimi 20 anni, da quando il sistema bancario è stato privatizzato, non ha consentito, non ha predisposto efficaci misure, dico una per tutte, la separazione tra banche d'affari e banche commerciali, dopo la crisi del 2007-2008 persino gli Stati Uniti d'America, che non penso sentano l'influenza dei 5 Stelle, sono tornati a una separazione tra banche d'affari e banche commerciali, qui in Italia e in Europa se voi chiedete singolarmente a politico per politico, quindi lei dice che il problema è nel rapporto tra politica e sistema bancario. Senatore, questo commentaggio, comunque non io, però Girotto, le chiedo appunto sul passo indietro della Boschi, sulle parole di Renzi, le vediamo qui. Prima di rispondere volentieri a questo, faccio parte anch'io della Commissione di Inchiesta e mi fa piacere sentire il collega dire da domani sono più sicuri i risparmi degli italiani, le imprese eccetera, però non mi risulta che la Commissione ad oggi abbia prodotto un risultato diciamo concreto, nel senso che non mi risulta una normativa uscita da questa Commissione, noi dobbiamo ancora stendere la relazione e naturalmente il Parlamento deve ancora prendere visione dei nostri risultati, quindi non c'è nessuna normativa scatturita dall'attività di questa Commissione, così come non mi risulta nemmeno una denuncia nei confronti di un qualche soggetto per una fattispecie di reato, per cui sui risultati… Abbiamo trasmesso alla magistratura numerosi atti… Mi sembra che al momento ci siano, ecco io non ho interrotto, normalmente non interrompo mai, aspetto il mio turno per parlare, sulla Boschi anche in questo caso decideranno gli italiani, sono d'accordo con il titolo che ho letto sul giornale, io credo che gli italiani ormai abbiano elementi sufficienti, non voglio spendere ulteriori parole, la Boschi ha fatto determinate dichiarazioni in Parlamento mesi fa dicendo non mi sono mai occupato delle banche, noi abbiamo acquisito l'audizione di Ghizzoni, di Vegas, di Consob, Vegas in particolare ha detto che la Boschi è venuta qui a Milano a parlare specificatamente di Banca Etruria, quindi ribadisco, gli italiani hanno tutti gli elementi in mano e sono assolutamente in grado di… Quindi lei dice che non dovrebbe fare un passo indietro, può essere ricandidata, poi saranno gli italiani a decidere se votarla o meno? Gli italiani decideranno a prescindere, è chiaro se la Boschi non si ricandida, è chiaro gli italiani non avranno nessuno strumento di premio o viceversa di censura, se si ricandida avranno naturalmente lo strumento del voto come è giusto che sia, io volevo anche aggiungere un ulteriore elemento della discussione sul fatto che la politica ha fallito negli ultimi vent'anni usando le parole del Ministro dell'Economia e delle Finanze, così siamo sicuri che la fonte è più autorevole del sottoscritto, il quale come molti altri intervenuti ci ha portato una relazione, la faccio vedere un attimo solo, è questa, è la relazione che ci ha lasciato e proprio all'inizio ci dice che le difficoltà intercorse intervenute delle banche sono state causate anche in ragione del loro modello imprenditoriale, quindi è chiaro che con un linguaggio diplomatico il Ministro dell'Economia e delle Finanze dice è proprio per come sono strutturate le banche che hanno avuto più facilità nel non contrastare la crisi globale e nel rendere possibili determinati reati, quindi la politica negli ultimi vent'anni ha fallito perché era chiaro che con la privatizzazione si aprivano amplissimi spazi di manovra per le banche per fare operazioni non legittime e soprattutto per essere strutturalmente deboli nei confronti della crisi, tutti gli intervenuti ci hanno detto che le banche sono procicliche, non l'hanno detto esplicitamente, ma hanno parlato tutti di crisi inevitabile, allora quando una banca è prociclica, quando un sistema bancario è prociclico non serve a nulla, un sistema bancario prociclico lo sanno tutti, è un sistema che segue l'onda del mercato, quando le cose vanno bene va bene anche il sistema bancario, quando iniziano ad andare male amplificano il danno, è la spiegazione tecnica della famosa battuta che le banche sono un soggetto che ti presta l'ombrello quando fuori c'è il sole e lo rivolgono indietro quando inizia a piovere, ecco la politica ha fallito perché doveva rendere le banche anticicliche e ci sono banche anticicliche nel mercato. Scusi, io ho ascoltato pazientemente, non ho interrotto, però di fronte a il falso che viene dichiarato su quello che ha dichiarato la Boschi, perché è vero che il senatore Girotto non era alla Camera quando la Boschi è intervenuta, però come me avrebbe potuto rileggersi i verbali, non è vero che il ministro Boschi ha dichiarato quello che ha riferito adesso il senatore Girotto, tant'è vero che da quando la ministra ha chiesto, ditemi dove sarebbe la bugia nel mio intervento in Parlamento, queste polemiche si sono tacitate. Quindi vediamo di non riesumare questioni che è vero sono state usate, ma sono anche state ampiamente dimostrate essere totalmente destituite di fondamento, primo aspetto. Dopodiché siamo tutti bravi e capaci nel capire che la politica ha sbagliato sulle banche negli ultimi vent'anni. Ma voi dove eravate in questa legislatura quando abbiamo fatto le difficili riforme sulle banche, avendo il coraggio che la politica non ha avuto negli ultimi vent'anni? Come ha votato il senatore Girotto sulla riforma delle popolari, che oggi tutti riconoscono essere stata determinante? Glielo chiediamo, ma ha votato e poi devo andare in pausa. Lo so bene come ha votato sia lui che il suo gruppo e su tutti gli interventi per facilitare come dire la restituzione dei crediti. E anche se Girotto ravvede ancora una qualche bugia della Boschia oppure no, però mi dica Vediamogli come ha votato. Sì, in due secondi Girotto e poi riprendiamo da lei dopo la pausa. No, ovviamente il collega sa perfettamente come ha votato tutto il Movimento 5 Stelle che si è opposto a queste riforme. Ma che siano state positive, lo hanno detto tutti i membri diciamo così del governo che naturalmente ci sono autocelebrati. Ci sono ben altre opinioni su queste riforme che hanno aggregato le banche costringendole a diventare più grandi. Io cito solo un articolo del settimanale inglese The Economist che dice che le grandi banche sono degli organismi altamente inefficienti. Ricordo che la crisi 2007-2008 è stata creata dalle grandi banche. Ok, devo chiudere, devo chiudere una pausa e ci vediamo tra pochissimo qui con il nostro pomeriggio. Ringrazio Gianni Girotto. Non rimane con noi ancora?